Allora, buongiorno a tutti. Siamo arrivati alle ultime qualità morali, alla fine di questo nostro percorso. Leggiamo la baraita iniziale di Rabbi Pinchas Ben Yair, che dice così. La Torah conduce alla riflessione, all'attenzione. La tensione porta alla sollecitudine. La sollecitudine porta alla pulizia del peccato. La pulizia del peccato porta alla moderazione. La moderazione porta alla purezza nel pensiero, nell'intenzione. La purezza porta alla pietà, alla bontà. La pietà porta all'umiltà. L'umiltà porta al timore del peccato. E il timore del peccato, ed ecco qua, la qualità morale nuova, il timore del peccato porta alla kedusha, alla santità. E la santità porta al ruach hakodesh, allo Spirito Santo e alla resurrezione dei morti. Vediamo queste tre ultime qualità morali. L'umiltà porta alla kedusha. Che cos'è la kedusha? La kedusha è la santità. La parola kadosh significa santo o separato e distinto. Perché? Perché significa, in un certo senso, separarsi dalla materialità, dalla mondanità. Quindi distinguersi dalla materialità, separarsi. Ma d'altro canto, nel momento in cui io mi separo dalla materialità, mi avvicino invece e divento più simile invece a kadosh baruku, che è kadosh, è santo per eccellenza. Che significa questo nella pratica? Significa legare ogni cosa materiale a kadosh baruku, a kadosh baruku, trasformare le cose materiali in cose spirituali. Come facevano per esempio i kuanim con i sacrifici. Come detto, i sacerdoti ne mangino e i peccati di chi ha offerto l'offerta siano espiati. Quindi l'azione dell'alimentazione qui da parte dei kuanim in realtà, che è un'azione materiale, veniva trasformata in qualcosa di completamente spirituale, che permetteva addirittura alle persone che portavano l'offerta di espiare i loro peccati. Quindi qua viene detto che non solo ogni cosa materiale deve essere legata a kadosh baruku, ma che viene trasformata completamente in qualcosa di spirituale. Questo è il livello più alto della santità. E però dice Ramkhal, questa è una midà così alta e così complicata da raggiungere, che ovviamente noi ci dobbiamo sforzare, ma che può essere concessa solo da kadosh baruku. Non dipende completamente da noi. Come scritto, se per santificarsi un uomo si impegna un poco, sarà santificato con abbondanza. Quindi di sicuro si parte dal nostro sforzo. Però poi l'arrivo, diciamo, il raggiungimento della qualità morale dipende da kadosh baruku. E quindi le persone che arrivano a raggiungere questa qualità morale sono definite, dice Ramkhal, come un uomo che cammini liberamente al cospetto del Signore nel mondo a venire, sebbene sia ancora un cittadino di questo mondo. Quindi chi arriva, ovviamente, molto pochi, chi arriva a questo livello è come se fosse già nel mondo a venire, nonostante sia ancora ovviamente legato a questo mondo. Il Ramkhal fa l'esempio dei patriarchi, che sono considerati proprio la Merkava, il carro di kadosh baruku, come se tutti le loro azioni, tutti i loro comportamenti siano proprio guidati da kadosh baruku, siano proprio un... non solo guidati ma legati da kadosh baruku, ogni loro azione. Questo significa essere la Merkava, questo essere il carro di kadosh baruku, che era una qualità dei patriarchi. Questo è il livello di chi raggiunge la qualità morale della Kedusha. E in questo modo, dice Ramkhal, la presenza di kadosh baruku sarà sempre su di loro come lo era sopra il Tempio, il Mishkan e il Bet Hamikdash. Questo è il livello. Andiamo a leggere un piccolo testo, e dice così. In breve, santità vuol dire per un uomo unirsi così intimamente al suo Dio da non potersene mai separare o staccare in qualsiasi attività decida di intraprendere. Si può anzi dire che quando costui si serve di qualche oggetto materiale, sono gli stessi oggetti che egli usa ad essere elevati, e non lui a discendere dalla sua unione spirituale per farne uso. Quindi addirittura sono gli oggetti materiali che sono elevati. C'è l'esempio, per esempio, del bidrash, del commento alla parashah di Vayetzeh, in cui Yaakov doveva prendere una pietra per metterla sotto la sua testa come cuscino. E le pietre, secondo il commento, fanno a gara per essere prese dallo tzaddik, perché in questo modo, come dice Ramkhal, è la materialità, è l'oggetto che viene elevato. Quindi qualunque azione dello tzaddik, qualunque azione della persona che arriva a questa middà, qualunque azione materiale intendo, diventa spirituale. Anche gli oggetti che sono la materialità per eccellenza diventano spirituali. E ancora, è come se un tale uomo si trovasse a condividere la stessa condizione sublime degli angeli già in questo mondo. Questo è un punto fondamentale, è un punto incredibile. Perché? Perché gli angeli non hanno l'ugliezza rara, non hanno più l'istinto cattivo, non hanno più neanche la tentazione a sbagliare. E questo è il livello che si raggiunge. Andiamo avanti. Quali sono i mezzi per raggiungere questa qualità morale? I mezzi sono ovviamente l'ascesi, quindi la moderazione di tutto quello che è materialità, lo studio ovviamente della Torah, ma soprattutto della shgaha di Akkadosh Baruch Hu su questo mondo. Cioè riflettere sul fatto che Akkadosh Baruch Hu ha una shgaha completa, particolare su ognuno di noi e sul popolo ebraico nel complesso. E ancora, soprattutto, sugli attributi di Akkadosh Baruch Hu. Perché più noi riflettiamo sugli attributi di Akkadosh Baruch Hu, sulle sue caratteristiche, e in questo modo, se noi riflettiamo sulle sue caratteristiche, possiamo prenderle come esempio. Cioè, come lui, come sappiamo bene, è misericordioso, anche noi dobbiamo essere misericordiosi. C'è una mitzvah proprio che dice che dobbiamo seguire le sue vie. In che senso seguire le sue vie significa imitare i suoi comportamenti. E quindi per questo dobbiamo studiare gli attributi di Akkadosh Baruch Hu, per fare in modo che le nostre qualità morali migliorino attraverso l'imitazione degli attributi di Akkadosh Baruch Hu. Quali sono invece gli ostacoli? Gli ostacoli sono ovviamente l'eccessiva socievolezza, che porta a un legame esagerato con la materialità, e dentro la quale l'anima rimane imprigionata. E quindi non può arrivare a questo legame diretto con Akkadosh Baruch Hu. E adesso arriviamo all'ultimissima qualità morale, che è definita come Ruach HaKodesh, ossia Spirito di Santità, e Triat Amitim, e Ressurrezione dei Morti. Questa metà è ovviamente molto molto complicata, andiamo a leggere così, forse sarà un pochino più chiara. E dice così, da questo stadio poi, cioè dalla Kedusha, dalla Santità, questi salirà a un livello ancora più alto. Accederà, cioè allo Spirito Santo, al Ruach HaKodesh, e in tal modo la sua comprensione trascenderà i limiti propri della natura umana. Quindi nel momento in cui noi arriviamo a questa ultima Midah, cioè al Ruach HaKodesh, allo Spirito di Santità, trascendiamo proprio i limiti umani. È un po' quello che abbiamo detto già nella Kedusha, perché se le persone che arrivano alla Kedusha sono paragonate agli Angeli, e a maggior ragione qui, nella Midah del Ruach HaKodesh, dello Spirito di Santità, proprio si trascendono completamente i limiti umani della natura umana. Costui potrà raggiungere una comunione con Dio così elevata da essere investito della forza che fa risorgere i morti, la stessa che possedevano Eliyahu ed Elisha, che sono due profeti molto importanti. Quindi qua che sta dicendo? Nel momento in cui io arrivo a questo ultimo livello, sono proprio in comunione completa con Akadosh Baruku, attaccato proprio a Akadosh Baruku, e quindi, come dicevamo prima, più io sono vicino a Akadosh Baruku, più io imito le sue caratteristiche, i suoi comportamenti, più io posso arrivare ad acquisire anche le capacità, le caratteristiche che Akadosh Baruku stesso ha. Quindi come lui fa risorgere i morti, Akadosh Baruku ovviamente, così riesce lo Tzaddik che ha acquisito tutte le qualità di Akadosh Baruku per imitazione e si è attaccato completamente a Akadosh Baruku. Ovviamente, questo possono arrivarci solamente i grandi profeti, si parla di Eliyahu, si parla di Edisha, si parla di grandi Sadiqin, però cosa ci sta insegnando qua, dal punto di vista un pochino più microscopico, un pochino più diretto per la nostra vita? Cioè, più noi ci attacchiamo a Akadosh Baruku, più noi ci attacchiamo alle sue qualità morali, più noi ci attacchiamo alle mitzvot, più riusciamo ad assomigliare a lui e quindi ad acquisire le sue qualità e quindi a portare vita, a portare vitalità a noi stessi e agli altri, in un certo senso. In questo senso forse si può intendere il triat ammetim, per far risorgere i morti, anche oltre al livello ovviamente molto più, diciamo, fuori di metafora, che è quello proprio di far risorgere i morti come facevano i nevim, i profeti. E allora siamo arrivati alla conclusione. Allora, questa conclusione è molto, molto importante perché dopo aver letto questo testo abbiamo visto che la maggior parte delle qualità morali che vengono elencate sono per un'elite, per una piccolissima parte del popolo ebraico e alla fine però che cosa dice il Ramchal? Dice una cosa eccezionale, qua dice è vero che noi abbiamo parlato di qualità morali incredibili che si raggiungono solamente con l'ascesi, con lo suo dorato ora costante, eccetera, eccetera, però alla fine lui dice però ognuno ha la sua strada e anche chi per esempio è costretto a lavorare, a non occuparsi di dorato tutto il giorno, comunque può arrivare a questi livelli in modo differente. E vediamo come. È semplice, dice Ramchal. Ogni uomo si è orientato e guidato secondo la sua vocazione e le occupazioni cui deve attendere. Il sentiero della pietà, cioè questo sentiero che noi abbiamo fatto e che si addice a chi ha fatto della Torah la sua vocazione non è adatto a chi deve lavorare per altri né a chi deve occuparsi in proprio di affari e commerci. Quindi dice quello che noi abbiamo già studiato è ovvio che non può essere per tutti. C'è chi si deve occupare di affari, chi si deve occupare di altri, eccetera, eccetera. Ciò vale per tutti gli altri ambiti che sono tipici delle umane inconvense. Ciascuno è quello che deve, ciascuno è quello che è e deve trovare il sentiero della pietà che meglio gli si addice. Cioè è vero che, diciamo, l'ideale sarebbe quello che abbiamo studiato fino adesso, però dobbiamo capire, dobbiamo un po' mettere i piedi per terra e capire ognuno è quello che è e quindi deve trovare il suo sentiero adeguato alla sua persona. Non che la pietà, cioè non che queste qualità morali così alte siano qualcosa di soggettivo e mutevole, essa è identica per tutti, certamente, perché consiste solo nel fare quello che è gradito agli occhi di Dio. Tuttavia, poiché le situazioni sono diverse per ogni uomo, anche i mezzi per raggiungere la santità in tali situazioni non possono non variare caso per caso. Quindi, che sta dicendo qua? L'obiettivo è, in generale, fare quello che è gradito agli occhi di Akkadosh Baruch Hu. E questo è abbastanza obiettivo, non è che possiamo discutere su che cosa è gradito agli occhi di Dio, ovviamente, Torah, Mitzvot, eccetera, però, in alcuni casi, i mezzi per arrivare a questo obiettivo possono variare caso per caso. Quindi, anche chi per necessità si è occupato nei lavori più umili può diventare un vero uomo di pietà, esattamente come chi non smette mai di studiare. Quindi, anche nei lavori più umili, questo è molto rivoluzionario, è un po' una sorta di chassidismo, di idea chassidica antelitteram, se vogliamo. E quindi, qua che sta dicendo? Anche i più umili possono diventare uomini di pietà, perché? Nel momento in cui legano ogni loro azione, anche la più umile, Akkadosh Baruch Hu, e al fare ciò che ha gradito gli occhi di Akkadosh Baruch Hu, ci possono comunque arrivare. Infatti è scritto, il Signore ha fatto ogni cosa per il suo bene. E ancora, in tutto il tuo agire, pensa a Dio, e Dio farà dritti i tuoi sentieri. Questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo che è un po' anche per noi, in un certo senso. E così conclude il Ramchal, il Messilati e Sharia. Il Messilati e Sharia.